ariete mercurio sta facendo il suo ingresso nel segno e aggiungerà dinamismo e positività alle giornate nonostante le costrizioni di questo periodo non vi mancano iniziative e vitalità unite ad una bella determinazione personale che vi fa vincenti toro in questi giorni avvertite l'impulso di marte che vi inclina ad una irrequieta agitazione mentre saturno dal canto suo trattiene le vostre emozioni risultato un po di nervosismo compresso che può indurvi a commettere azioni maldestre a dare risposte piccate gemelli oggi la luna è in aspetto di opposizione e può appannare l'umore ma non disturba l'andamento positivo del periodo che vi vuole in prima linea degli affetti nella vicinanza a chi amate inoltre siete ravvivati da nuovi stimoli intellettivi che vi portano a fare programmi audaci cancro dovete attraversare qualche giorno sottotono prevale il senso di stagione a volte di demotivazione ma in realtà probabilmente state solo scaricando le tensioni dell'ultimo periodo e avete solo bisogno di rilassarvi di più con le piccole cose quotidiane leone periodo favorito da un cielo astrale di forza che pone in risalto vitalità e fiducia nelle vostre risorse vi orienta a considerare le relazioni affettive con occhi più consapevoli una espansione contenuta però da saturno opposto che vi invita a rivedere alcune questioni definitivamente vergine la giornata distorce le vostre percezioni luna e venere in aspetto disarmonico infatti possono farvi scivolare in una atmosfera nervosa e incerta che vi turba rimane comunque la benevolenza di giove che sostiene i vostri sforzi bilancia alcuni imprevisti possono sollevare un po di nervosismo in questi giorni siete un po suscettibili agitati tuttavia possedete anche una buona carica che vi rende attivi e risoluti nel proseguire lungo la strada che vi siete prefissi favoriti gli affetti e i sentimenti scorpione c'è un po di tensione che inquina le giornate il senso di oppressione vi mette a disagio e le collere trattenute non giovano cercate di trovare un modo per staccarvi dai pensieri e rilassare più che il fisico lo spirito attualmente un po disorientato sagittario la luna oggi è in transito nel segno e influenza i pensieri con le emozioni che avvertite emozioni positive amplificate ma non sempre realistiche qualcosa turba la sfera degli affetti una lontananza che vi pesa una incomprensione o una verifica del rapporto capricorno giornata lineare per voi un po frastornati mentalmente da un andamento confuso possono emergere contrarietà che innescano nervosismi inutili meglio lasciar scivolare via i pensieri poco chiari e concedervi distrazioni salutari acquario si rafforza la positività del vostro cielo dinamismo e propositi fermi riescono a sviluppare progetti importanti per il futuro assestamenti da compiere strategie da mettere in atto anche nella sfera sentimentale siete vincenti tutto pare girare dalla vostra parte pesci trascorsa la fase morbida che ha fatto emergere tutta la vostra capacità creativa romantica adesso siete alle prese con questioni più terrene una certa conflittualità nel settore affettivo può compromettere l'andamento scorrevole delle giornate ma tutto sommato non siete così coinvolti buone stelle buone stelle